L'autorità di vigilanza antitrust dell'Unione Europea ha ordinato al governo italiano di recuperare 900 milioni di euro da Alitalia, a seguito di un'indagine secondo la quale si stabilisce che i prestiti costituiscono aiuti di Stato illegali. La Commissione Europea ha inoltre dato il via libera alla nascita di ITA, la nuova compagnia aerea che subentrerà a quella di Bandiera e nascerà con capitale pubblico pari a 1,35 miliardi di euro. L'indagine approfondita, scrive la danese Margrethe Vesteha, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, dimostra che i prestiti costituiscono aiuti di Stato per Alitalia e sono illegali. Hanno dato ad Alitalia un vantaggio sleale rispetto ai concorrenti e ora debbono essere recuperati dall'Italia. Alitalia è in difficoltà finanziarie dal 2008. Avendo un disperato bisogno di fondi, nel 2017 perse l'accesso ai mercati del credito, sicché per tenerla a galla intervenne il governo, erogando due prestiti da 600 e 300 milioni di euro.